Che bellissimo! Ho installato nel computer Merfisher Remote Access e sto guardando tutto quello che fa lei dal mio iPad con un VNC Remote e posso anche controllare, posso scrivere, metto la tastiera, testo destro, tasto sinistro, posso fare delle spiate magiche, non ancora ha capito che stavo spipolando dentro. Tutto Chosky.